è questa così ma però bisogna così sì ma puntare verso l'alto altrimenti il suono non va e poi non si può anche pensare che come un tubo di stufa il suono vada su così non può è fisiologicamente impossibile che possa salire quindi si parte così ma poi bisogna pensare così pensare non stringere la gola ma pensare in questo senso e allora il suono può andare al di là e poi col fiato fare fare come un giro non è che l'acuto sia un punto d'arrivo sia pensare sempre come una ruota in modo che il fiato deve portar su in questo senso e poi risollevarlo per venire giù allora vengo giù come perle le note ma anche oggi devono esserci queste voci e io non mi sono rovinata cantando mascagni ho fatto tante recite di iris ma non mi hanno rovinata cantando quando si canta sul fiato quando si sorregge si respira e si sorregge si sostiene questo fiato alla maschera così il massaggio che si fa alle corde vocali non si traumatizzano e tutto questo è il segreto segreto è solo quello non esiste altro che fiato fiato e fiato anche cotogni il famoso cotogni diceva ricordatevi ragazzi fiato fiato e fiato quando si comincia non si può cominciare per esempio ha già sprecato tutto il fiato dopo non è più per arrivare alla fine della frase capisce quindi bisogna tutto il legato naturalmente sostenuto dal fiato la voce è un po' di fiato brasilianete yeah questo è sul piano, l'altro quando attacca l'ho andato su un anodo per favore tu senti qua armi, 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 veder le lacrime lui ha una voce, ma canta tutto dentro e spesso è calante deve stare più libero in un uff, uff Fulgorte gli angeli prega morìa per me 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 Se il video è divertente e iscriviti al nostro canale e iscriviti al nostro canale. Ciao!